9 giugno 1870 muore Charles Dickens il più grande romanziere inglese dell'era vittoriana le sue opere letterarie e lui stesso godettero di un'immensa popolarità non paragonabile a qualsiasi autore precedente il suo lavoro accompagnato da illustrazioni originali interessava ai semplici e ai sofisticati ai nobili e ai poveri e la sua fama si diffuse in tutto il mondo la compassione l'arguzia la varietà dei suoi personaggi spesso adattati per il teatro mostrano l'intelligenza e la profondità della sua passione civile romanzi come il circolo piquic david copperfield grandi speranze fanno di lui un influente portavoce del valore della coscienza oltre che un immenso autore della letteratura del diciannovesimo secolo un'impreidabile 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 Grazie.